Benvenuti Siamo disperati sono a casa da più di quasi due settimane abbiamo provato a registrare non so quanti video facevano uno più schifo dell'altro Non lo so siamo incapaci di fare video ormai abbiamo buttato via una cosa come tre video eravamo qua sul letto Disperati dobbiamo trovare qualche video da fare non è possibile ad un certo punto l'illuminazione il cambiamento Totale del canale questo ci porterà avanti milioni di iscritti milioni di visualizzazioni L'umanità ha aspettato questo momento ogni singolo passo e la nostra vita ci ha portato qui a registrare Chi mangia più Voglio registrare il momento in cui abbiamo deciso di fare stacca cata che cosa è il video più inutile della storia ti rendi conto E vabbè è perfetto in questo momento ci togliamo dal cazzo quei burster puzzolenti E facciamo anche un video Chi mangia più burster challenge Adesso cerca se adesso vai su youtube e cerca se qualcuno l'ha mai fatto Burster challenge Non c'è due settimane fa Ma che cazzo Ma che sfiga Busgamer Come osi Era un'idea rivoluzionaria Ma l'idea del video è nata dal fatto che abbiamo aperto il frigorifero e c'era una quantità industriale di burster Ma non sappiamo il motivo li ha comprati nostra madre così a caso Ci è appena venuta in mente l'idea di questo video geniale e adesso guardiamo quanto i burster abbiamo in frigo Eccoci Li ha presi nostra madre non noi Cioè così a caso perché c'erano gli sconti E allora due chili e mezzo di burster Cosa ne pensi di tutti questi burster casualmente Nella fringazia 50 pezzi due chili e mezzo di burster Una roba che non Ma cos'è Avevamo tanti burster dovevamo trovare un video da fare Unite le due cose Ed eccovi qua Chi mangia più burster Questo lo metterò nel curriculum Andiamo a cuocere i burster Pollo Burster di pollo Di pollo Fa cagare il burster di pollo 4 minuti E tracchette Ti piace il rischia No 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 Guarda l'acqua Cioè vedete il livello dell'acqua È pericolosamente al limite della Vecchio buono vecchio no no Se adesso comincia un po' di schiuma È finita È finita qua Bella idea E guarda quanti ne mancano ancora Adesso non ho messo il timer Ragazzi Tengo a precisare che a me i burster fan cagare Cioè io non li mangio A me fan venire la nausea Eccoci qua Tagliare i burster Sabato sera Bello vecchio Cioè io non ho mai visto Dell'acqua così rancida Cioè vecchio guarda Guarda che acqua Vecchio guarda il cestino Ma che cazzo Sono 50 burster 50 Ma si ha po' Bene Andiamo a mangiarli Chi mangia più burstel Eccoci qua Eccoci qua Ce lo stiamo facendo davvero Ti rendi conto? Allora i burstellini valgono 1 I burstelloni valgono 3 3 2 1 Via A me fan cagare A me fan cagare i burster Che schifo Ma non lo mangi Manchino di polvere Non vale Non vale Se ne lasci un pezzo non vale Io mi son portato il ketchup perché Vecchio ma non puoi far così Io non riesco Ne sono già due Allora te l'ho vinta Non ci provo neanche io Io voglio gustarmeli tutti Bonta Adesso ti dico già che mangio solo quelli piccoli Quelli grossi Guarda qua Sono marroni Cioè Ma che no? Allora ragazzi Adesso lo dico Questo video O farà Ne nessuna view Oppure ne farà un sacco Perché funziona così sull'internet Esatto O fai schifo O diventi un fenomeno Comunque quanto sei te? Chi li conta? Io sarò a sette La sette? Io sarò a tre poste Io li mangio bene Me li gusto Me li mangio Me li bollo Sto già per vomitare Oh marroni Chi fa? Dai Già 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 Mangia Mi so che mangio Uno di quei grossi Guarda che non possiamo Far finta di niente Qua rimangono Fin che non li mangi Qua la gente Non hai ricoglionita Oh Cos'hai? Non puoi cagare Chi caga perde Chi caga perde challenge Ma cos'è? Ma è storto Ma è storto Mangio il vorstellozzo io Oh ma che cazzo fai? Perché? Ma sei col male Fa proprio schifo Sto qua Ma io non lo mangio Oh Fa cagare Lo so Ogni cibo fa cagare Dopo un po' Noo Cioè questo è il video più trash del canale Cioè Chi sia chiaro Chi mangia più Wirstel Nel momento in cui hai pensato Dobbiamo registrare un video Avresti mai pensato di Finire quarti No No A mangiare Wirstel di merda no Sfida Adesso per aggiungere alla sfida Mentre mangiamo i Wirstel Guardiamo un tutorial su come si fanno i Wirstel No Su YouTube No Sì Vomito Lo guardiamo Sto male How to make Wirstel Un bel tutorial perché ti fanno vedere quello che stai mangiando Guarda qua che buoni Guarda qua che buoni E che ho i brividi Ho i brividi A me sembra che siano sempre gli stessi Tornano Respondano sti cazzi di Wirstel Non ti ne hai mangiati te Ma che ne so Li conti Le altre persone che hanno fatto un video del genere Mentre mangi Wirstel Cioè non è divertente mangiare i Wirstel Ma no Non ti diverti No vecchio Perché sto video Questo è un altro video da buttare No no Non vomitare Non guardarmi se devi vomitare Poccio al Wirstel Dentro al ketchup Ma che buon Ma che buon Perché mi fai stare male a me A guardarti Perché sai che se ne mangi ancora un po' così Mi diventi come ma Non voglio Basta Fancagare sti piselli sudati Devo andare Ma poi a volte sono i pezzettini Quelli Quelli solidi Cari Arrivano tutti a me Qualcuno si taglia le unghie Mentre fai Wirstel cazzo Chi è? Tu e le tue unghie Tagliatele a casa Aaaaa Dai lo sto video Urla Piselli sudati E via Comunque l'ho rischiata la grande fuori Perché avevo ancora un po' di Wirstel Ho detto beh lo sputo Va fa un bagno Però l'atto di fare quel gesto di sputare Tipo il mio cervello Il mio corpo Non lo so E' l'ora E' l'ora E' quella qui E' la passione E' la passione E' la passione Quasi vomitato tutto Quindi hai provato a imbrogliare No Quello Devi mangiarlo Non lo voglio Devi mangiare Io piango Almeno quello Piango Parliamo di qualcosa di importante Discussioni Importanti Mentre si mancano i Wirstel Esatto I presidenti Fumano sigari E noi mangiamo i Wirstel Parlami Della cosa più divertente Che ti è successa in classe In terza media Il mio compagno Durante la lezione di geografia Si è sparato una sega In più Ma lo vuoi questo? No 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 Dai Un sbocco Ma dai Dai via Dai Basta trovare scusa Per non mangiarlo Ho fatto una cazzata Guarda Non lo metto in dubbio Sa troppo Verso l'inbocca Adesso No Non fa Se fai con un movimento No Non farlo No No Non farlo Non devi far quel movimento Con la bocca Se no ti vengono a vomitare Sul serio Fidati di me È stata una cazzata No Non guardarlo David Non guardarlo Non devi guardarlo Siamo arrivati a questo E questa è la nostra vita adesso No 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 Vomito Secondo me se faccio Così forte Risco a spezzarlo Benvenuti In un colpo Ma se ma Ma no In un colpo Non esiste Non lo faccio Perché no Allora puoi dare un morso Non lo farò mai nella vita Ok Non c'è nessuna cosa Che tu possa dire Che mi faccia fare Sta sfida Girasoli Perché ho il sapore Di tutto quel Burstel Dai magna Magnalo No 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 Quando schiacci Basta Basta I Burstel Ci hanno sconfitti Io sono ancora in guarda Uno Due Tre Ecco Visto Facile Seguiteci su Instagram Il follower della settimana è Guido Ciao Ciao